In Eclabora ci siamo accorti di un problema attuale, ovvero ogni anno le scuole diplomano centinaia di ragazzi, di studenti e dall'altra parte sempre le aziende ricercano del personale formato. Il progetto IFTS ci ha aiutato, noi abbiamo più che raddoppiato il nostro personale negli ultimi tre anni e questo ci ha permesso di essere molto veloci e snelli sulle nuove richieste della clientela. I percorsi post diploma IFTS si propongono come risolutivi nel colmare questo gap, questa differenza che c'è tra la domanda e l'offerta di lavoro. IFTS è un progetto realizzato per i giovani, al tempo stesso è un progetto che permette alle aziende di conoscere per parecchio tempo in aula e anche all'interno dell'azienda dei giovani che hanno voglia di mettersi in discussione. Ricerchiamo giovani diplomati, neodiplomati o anche diplomati da diverso tempo che hanno voglia di investire sul loro tempo, sulla loro formazione, motivati e che abbiano voglia di mettersi in gioco. Ho fatto la commessa, la cameriera, la receptionist in palestra, queste cose qui. In realtà io per la mia vita desideravo un lavoro un po' più stimolante. Quando sono venuta a conoscenza del percorso IFTS ci ho visto questo, la possibilità di entrare in un mondo del lavoro che magari fino a quel momento per me era molto lontano. L'insegnamento si basa sulla metodologia del learning by doing e la coesistenza di ore in aula e ore di stagio direttamente in azienda. Sicuramente il giovane ha quella marcia in più che gli può permettere di fare la differenza.